Siamo con Alice De Gradi, schiacciatrice di Banca Valsabina Millennium a Brescia. Questa sera fa il suo debutto qui al Palagiorgio dopo la partita infrasettinale contro Caserta. Nuova squadra, dammi la tua impressione prima sul tuo inserimento qui a Brescia e poi sulla partita. Sono molto contenta, mi entrava molto bene, le compagnie sono super, sono tranquille, cercano di darci una mano. Il palazzetto è bellissimo, è fortissimo, non sentiva neanche intanto quando si parla perché facciamo veramente tanto tifo. Ovviamente non è facile entrare a Genna, siamo arrivati da neanche dieci giorni, abbiamo fatto la trasferta a Caserta quindi avremo bisogno di tempo per trovare le varie tasse in attacco, però siamo tranquille e vogliamo far sempre meglio. Certo, è una, praticamente adesso la seconda parte del campionato, della regular season, ci sarà appunto l'interruzione fra 15 giorni per la Final Four di Coppa Italia però è questo il momento, diciamo, clou del campionato dove appunto si decidono i giochi al final. Esattamente, adesso per fortuna c'è quella pausa in cui possiamo mettere a posto il nostro gioco perché comunque adesso mancano alcuni meccanismi che di solito sono automatici, però siamo tutti molto motivate, quindi cercheremo di fare il meglio possibile fino allo stop per la Coppa Italia e poi di mettere a posto quelle due o tre cosine che ci fanno fare le salte di qualità. Bene, io ti faccio l'in bocca al lupo, forza Banca Valsabina e adesso godetevi questa serata di festeggiamento. Grazie.